Uè, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi, posizione del Fortnite numero 38! Uno degli ultimi finalmente per questa season! Dobbiamo utilizzare la skin VENGANZA, VENDETTA, chiamatela un po' come vi pare! E la posizione ragazzi è proprio nella Skybase più in alto, più a nord, quella vicino a Laguna Languida! Dobbiamo semplicemente abbattere il primo cancello, la prima sala cinesca e il Fortnite si troverà esattamente in questo punto, a questa altezza! Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale! Noi ci vediamo presto! Ciao! Ciao!